Il grande spettacolo delle nostre draghe ci sono marito e moglie che stanno guardando la televisione e lei si gira e gli ascolta ma se io dovessi morire ti sposeresti ancora? mo no, occa mi sposa e allora vuol dire che non ti piace essere sposato mo no, mi piace essere sposato e allora perché non ti sposeresti? va bene, mi sposeresti e allora? eh, chissà, e se ti sposeresti la farisette mia in canostra certo ebbene, la farisette mia in canostra, beh? eh sì, eh certo e farisette dove hanno le macchine? ah no, sicuro perché l'ho cambiata patente